...della piazza San Marco che abbiamo visto per secoli e secoli. Abbiamo partecipato con gioia a feste, processioni, acrobazie, spettacoli, uomini e donne bushi, vestiti in modi diversi, il doge in pompa magna, col corteo di novi nomini, sono passati col carnevale, il volo del turco dal campanile, le acque del mare che invadono la piazza, il terremoto del 1551, quante pestilenze, non c'era tempo di annoiarsi, non c'era tempo di pensare al nostro passato, il battere delle ore dei mori dalla torre ci ricordava la nostra funzione civile, unici in posa trionfale sulla facciata di una basilica. Chi avrà avuto l'idea di metterci in questa posizione dominante? Siamo le antiche divinità greche.